Ok, allora Andiamo al schermo Share 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 Ok Ok, che dovrebbe essere attiva Ok, inizio con qualche parola di carattere generale in modo che comunque se qualcuno è un attimo in ritardo possa trovare il tempo di collegarsi Dunque, come avrete visto avete visto anche dalle notifiche sul canale Slack abbiamo messo online in un repository diverso sul GitHub le soluzioni degli esercizi che abbiamo visto la volta scorsa per la verità le prime due metteremo poi anche la terza magari fatta in una maniera un pochettino più interessante usando quello che impariamo oggi quindi la programmazione funzionale fatta secondo, diciamo così, lo stile JavaScript quindi se andate a vedere su GitHub oltre al course material che è quello che trovate già e avete già trovato sin dall'inizio del corso adesso c'è un nuovo repository JS Basics Exercises in cui trovate appunto una possibile soluzione di quei due esercizi che abbiamo visto la volta scorsa come sempre ciò che troverete online non è perfettamente identico a quello che abbiamo visto insieme ma comunque avete le registrazioni e credo sia anche un bene che non lo sia perché vedere come si possono risolvere gli esercizi in maniera diversa ci insegna spesso molto di più che semplicemente vedere una soluzione e dire ah si fa così, punto quindi per esempio adesso credo che sì ce lo mostra online forse si ingrandisce anche quindi che so un'alternativa che l'altra volta non avevamo visto si può addirittura far così e con la programmazione funzionale si potrà anche fare un po' diverso e come vedremo stamattina quindi let IC quindi con l'assognamento doppio delle entris che sono quindi un vettore fatto di singoli vettori di due elementi qui abbiamo chiave valore chiave valore che funziona anche per gli array e quindi di fatto il primo è l'indice quindi 0, 1, 2 eccetera perché ci serve per fare l'assegnamento perché vogliamo riscrivere nello stesso vettore e il C è il valore quindi questo è proprio appunto se li scorrete trovate delle curiosità o delle cose che possono essere interessanti e diverse da quelle che abbiamo visto insieme ok quindi 10, 04 io direi che possiamo possiamo partire ricordate l'altra volta ci siamo fermati a parlare di array e oggetti abbiamo fatto quegli esercizi e poi abbiamo detto proprio due cose sulle date oggi vedremo un altro modulo in queste due ore un modulo di node che ci consente di gestire il database perché vediamo subito il database da un lato per poter fare qualcosa di interessante nel prossimo laboratorio che è lunedì prossimo quindi da lunedì prossimo iniziano i laboratori e come sapete saranno solo online perché così è stato deciso dal Piemonte del governo del Piemonte perché perlomeno per le prime due settimane poi come sapete in questo periodo nessuno sa come le cose vanno avanti però appunto anche chi si è prenotato per la prossima settimana purtroppo non può venire poi il tecnico e faremo entrambi gli slot online questo è già deciso a meno che non cambino di nuovo però insomma queste sono le indicazioni che tra l'altro dovreste ricevere anche sulla vostra email direttamente dal rettore ok quindi prossime settimane iniziamo i laboratori e per fare qualcosa interessante abbiamo pensato di inserire questa piccola parte sul database direttamente in queste tre ore così che non giochiamo solo diciamo stupidi esercizietti non stupidi però esercizietti che lasciano un po' il tempo che trovano sul timer e su queste cose asincrone che sono appunto forse un po' meno interessanti perché poi alla fine si usano poco invece il database è qualcosa che useremo sul lato del server verso la fine del corso per realizzare la parte server della nostra applicazione proprio il minimo quel tanto che basta per far funzionare qualcosa ok se non ci sono dubbi o domande che vi invito a scrivere sul canale solito Slack Live Lecture direi che possiamo iniziare e iniziamo parlando di programmazione asincrona e questo è il titolo delle slide in realtà ci sono tutta una serie di sotto argomenti da toccare prima di arrivare alla programmazione asincrona che di nuovo è uno di quei punti chiave di JavaScript ciò che lo distingue in maniera abbastanza netta da tutti gli altri linguaggi di programmazione non perché non si possa realizzare qualcosa di asincrono quindi thread eccetera in altri linguaggi di programmazione ma perché JavaScript ha una maniera un po' tutta sua di gestire questa cosa anche perché è nato vi ricordo come linguaggio per i browser e quindi è naturale che ci sia un meccanismo di interazione asincrona perché quando facciamo qualcosa con il browser un click un'interazione eccetera questo è asincrono rispetto a tutto quello che sta svolgendo il programma che gira all'interno del browser in JavaScript e quindi un po' nella maniera naturale JavaScript di gestire il diciamo questi questi eventi che sono al di fuori del flusso di esecuzione del programma quindi prima di andare a parlare di programmazione asincrona dobbiamo introdurre le callbacks che sono funzioni un po' particolari come approcciarci in maniera un po' diversa alla programmazione avendo appunto queste callback e usando quindi un approccio di tipo funzionale cosa per la quale JavaScript si presta molto bene e poi andiamo appunto a parlare in maniera approfondita di programmazione asincrona vedendo come usarla per esempio per accedere al database e poi ultimi due argomenti della giornata come realizzare al meglio i nostri programmi asincroni perché vedrete che diciamo farle nella versione ah non si vedono le slide ok grazie quindi allora facciamo che interrompiamo il share proviamo a fare lo share di nuovo ok adesso si vedono sì ok perfetto grazie mille che mi avete fatto andare avanti senza le slide per voi più che altro ok quindi vabbè il titolo non c'era niente da vedere dicevamo che ci sono tutti questi argomenti l'ultimo è quello delle promises async await che sono la maniera vediamo ancora il browser ma qualcuno scrive ok va sì le promises async await sono la maniera più moderna che abbiamo di gestire queste interazioni asincrone e le dobbiamo capire per forza perché oramai quando andremo a programmare nei browser molte delle primitive quindi funzioni predefinite all'interno del browser faccio l'esempio classico la fetch che è la funzione che serve a caricare in maniera sincrona le informazioni dal server quindi è fondamentale per realizzare applicazioni funziona con le promises e quindi dobbiamo capire come funzionano ok non perdiamo ulteriore tempo andiamo avanti ok callbacks prima cosa una callback in realtà è una normale funzione la particolarità è che viene presa è passata come parametro ad un'altra funzione e questa funzione cosa ne fa quando ha necessità va a richiamarla perché avendo reference alla funzione che vi ricordo in javascript è un oggetto come tanti altri quindi può essere manipolato come tutti gli altri quindi passato come parametro come valore di ritorno eccetera possiamo andare a segnalare tramite questa callback a chi ci ha chiamato e quindi chi ci ha passato questa funzione come parametro che abbiamo fatto qualcosa abbiamo terminato un compito e così via le callback possono essere di due tipi sincrone e assincrone cominciamo con le sincrone che sono le più semplici le callback sincrone sono fondamentalmente quelle che ci consentono di diciamo di dire una funzione nel momento in cui hai bisogno chiama questa funzione che ti passo per fare questo compito specifico quindi l'esempio è proprio semplice quindi io creo una funzione logquot che stampa ciò che viene passato come parametro e la do come parametro a un'altra funzione che poi chiamo la createquot che appunto la chiama perché usa lo stesso nome del parametro che è stato passato e io passo logquot che viene convertito in callback che callback mi chiama la mia funzione che farà quindi un semplice console log normalissimo vediamo un esempio un po' più interessante perché onestamente quello era molto artificiale ecco la classica callback sincrona è quella della sort quando fate un sort questo anche in altri linguaggi di programmazione per maggiore flessibilità vi viene data la possibilità di passare alla funzione sort un puntatore a funzione diremmo in cima qui diciamo direttamente una funzione che è una callback perché viene usata all'interno della sort per decidere qual è il maggiore tra i due elementi che vengono confrontati nel caso dei numeri può essere estremamente semplice quindi faccio a meno b se viene maggiore di zero è a e altrimenti è b e quindi la sort sa come trattarli ma se fossero elementi più complicati potrebbero essere oggetti altri array eccetera qualsiasi altra cosa io in questa funzione posso andare a prendere che sono il campo che mi interessa sul quale voglio andare a fare l'ordinamento e così via vi faccio vedere l'esempio sempre utilizzando quell'approccio che abbiamo usato anche l'altra volta diciamo pratico provando ogni tanto nell'ambiente di sviluppo quindi apriamo il Visual Studio Code così facciamo pratica anche con questo in vista poi dell'esercitazione o meglio del laboratorio di lunedì spero che si riesca a vedere il Visual Studio Code ok sono sul canale giusto sì sì ok quindi qui in realtà ho un altro progetto aperto o meglio un altro file aperto ma buttiamo via tutto perché stavo facendo solo delle prove quindi io faccio open folder vi ho detto lavorate sempre in una cartella io mi sono fatto questa cartella live in cui ci sono penso i file dell'altra volta si c'è il test dell'altra volta ma che non uso io adesso appunto prendo e butto via tutto e e quindi mi sono fatto un copio in colla delle slide solo per comodità ma è la stessa cosa che c'è scritta sulle slide e lo stesso sort andiamo a provarlo quindi facciamo come facevamo l'altra volta facevamo usiamo ancora questo sistema un po' grezzo per lanciare poi vediamo quando arriviamo ai database dobbiamo usare per forza un altro sistema e vediamo di dire due parole in più su Visual Studio Code vedete che qui abbiamo fatto il sort questa è una funzione il sort prende o niente e quindi avrà una sua funzione di default quindi proviamo pure a tirar via tutto e rieseguire quindi cosa è successo? sì prende niente quindi ha la sua funzione di default che probabilmente se vede dei numeri ne fa la differenza prima o meno secondo come abbiamo detto noi o se delle stringhe avranno un'altra funzione però noi possiamo scriverci quello che vogliamo quindi abbiamo passiamo una funzione questa è la sintassi arrow function che abbiamo visto l'altra volta per descrivere una funzione nella maniera più semplice possibile due parametri ricordatevi che se avete due parametri dovete metterci le parentesi tonde freccia c'è un solo valore quindi automaticamente il valore di ritorno se è così non dobbiamo scrivere né le graffe né il return è automaticamente il valore di ritorno se noi facciamo b meno a b meno a proviamo ok adesso arriva sì 5 e 4 quindi me li ordina a rovescio quindi sono io che decido come fare il confronto tra a e b giusto quindi se se per esempio voglio ordinare in ordine crescente piuttosto che decrescente devo essere io a dirgli e passargli la funzione corretta no come decidere che cosa fare nel caso in cui siano uguali e così via quindi ho la possibilità di fare ciò che desidero e come faccio passando una callback una callback sincrona alla sort la sort tutte le volte che ha bisogno di fare il confronto tra due numeri in questo caso tra due elementi va a chiamare la mia callback se questa callback ha un valore di ritorno viene interpretato e viene usato nell'algoritmo di ordinamento ok quindi sì ci siamo non ci sono interventi quindi questa è la callback più semplice che possiamo immaginarci quindi appunto a meno b b meno a decidiamo noi per esempio proviamo questo in cui abbiamo un qui creiamo un array di oggetti quindi così intanto ripassiamo quello che abbiamo visto l'altra volta array aperte quadre di oggetti perché aperta graffa oggetti che hanno due proprietà name e var quindi diciamo sono le azioni con il loro nome e la variazione variazione percentuale quello che vogliamo noi non interessa vogliamo solo fare un po' di esercizi ok andiamo a provare a tirar fuori tutti tutti gli oggetti che hanno una variazione minore di zero bene per farlo andiamo a provare a usare la funzione filter che è presente su tutti gli array javascript che ci consente di creare un nuovo array con tutti gli elementi per i quali la callback che dobbiamo passare come parametro alla filter ci ritorna true quindi se noi mettiamo come callback variabile freccia variabile punto var perché la variabile sarà in riferimento ad un oggetto punto var perché noi passiamo questo tipo di oggetti che sappiamo avere una proprietà var minore di zero questa è un'espressione booleana e quindi ritornerà vero o falso siamo in grado di filtrare i nostri oggetti sulla base di quello che abbiamo scritto nella condizione quindi per esempio minore di zero la variazione andiamo a provare questo codice e non faccio copia e incolla ma semplicemente per una questione di rapidità perché dalle slide non sempre viene perfetto ho aperto una cosa differente perché mi si è spostato ecco porta sull'altro schermo così non mi disturba quindi andiamo a fare la prova è esattamente quello che c'è scritto sulle slide ho messo solo dei console log per comodità perché così testiamo in maniera rapida vediamo immediatamente il risultato vedete che sì perché non me li fai vedere non me la vuoi far vedere stamattina abbiamo iniziato ma allora proviamo a fare così magari questi esperimenti avete già provato a farle ecco perché diciamo ce li mostra col debugger vabbè quindi vedete che il primo filtro minore di 0 ci dà i due che sono negativi meno 3,2 meno 1,8 l'altro maggiore di 0 ci dà il 2,2 cioè la callback è quella che ci decide se il valore è positivo o negativo sì se il valore è positivo o negativo cioè quello che ci interessa ci dà true e filter sa che se la callback ritorna true viene incluso in un nuovo array notate bene sono nuovi array bad e good sono nuovi array questo codice non lo facciamo però potete andare anche a provarlo nel python tutor e vedrete che sono riferimenti a dei nuovi array cioè bad non è che punta market cioè market non è stato modificato tant'è vero che market lo riuso dopo e riusandolo dopo ci sono ancora tutti perché trovo ancora i positivi notate bene appunto il fatto che market sia costo non vuol dire che l'array è immodificabile è semplicemente che il riferimento all'array non può essere riassegnato ok già che ci siamo facciamo un'altra prova così se avete qualche difficoltà qui nel terminal se siamo nella cartella che abbiamo aperto prima live dovrebbe essere in quella cartella potete anche scrivere eseguire senza il debug quindi se noi scriviamo node abbiamo test js qui vedete direttamente il risultato se eseguiste il programma come un programma diciamo al di fuori del debug il debugger ci è molto comodo perché appunto possiamo stoppare vedere eccetera però possiamo fare le prove anche direttamente al di fuori per esempio direttamente nel terminal ovviamente lanciandolo in questa maniera node test cioè yes ok non vedo dubbio domande quindi proseguo quindi queste sono un callback sincrone vuol dire che tutte le volte che la funzione in questo caso filter prima sort ne ha bisogno le chiama e attende di avere un risultato normali funzioni di un qualsiasi linguaggio di programmazione chiamo e attendo il return bene avete intravisto questa filter forse è il caso di spendere qualche parola in più appunto su questo approccio di programmazione che si chiama funzionale e che diciamo si presta molto bene ad essere utilizzato in javascript perché appunto le funzioni sono un elemento chiave di javascript si possono passare in maniera molto facile ritornare eccetera eccetera quindi non è che javascript sia nato intorno al paradigma di programmazione funzionale come c'è la programmazione imperativa eccetera solo che si presta bene e poi in più ci piace soprattutto perché i programmi javascript possono essere anche molto contorti a volte però la programmazione funzionale è un tipo di programmazione in cui dovremmo riuscire a scrivere qualcosa di più facilmente comprensibile confrontate a sinistra a destra il modo di programmare la stessa cosa usando un approccio di programmazione funzionale in cui passiamo una funzione come parametro a un'altra che è quella che ci fa il lavoro invece il modo diciamo così tradizionale diciamo tipo c o tipo linguaggi appunto più tradizionali in cui non vogliamo fare questa operazione cioè a sinistra è quello che abbiamo appena utilizzato come approccio nuovo array uguale array punto funzione filtra sort crea un altro array vedremo adesso quali sono le funzioni predefinite disponibili sugli array e passiamo questa callback cioè sincrona quindi questa filter function in questo caso perché è un filtro noi possiamo anche realizzare le stesse cose diciamo usando l'approccio classico non è che sia vietato voglio fare un nuovo array array vuoto for const l in list quindi mi giro il mio array in questo caso list è il vecchio array se allora ho la filter function la chiamo su l se è vera allora faccio l'array push però qui vedete sono quattro righe di codice qui è fondamentalmente una siamo andati a capo perché non ci stava e dovrebbe essere anche molto più facile capire che cosa fa perché io guardo solo la funzione di filtro punto e basta e lì capisco non è che ho bisogno di capire ah c'è la push allora aggiunge un array allora mi gira tutto l'array sì ok allora vado a vedere cosa fa la funzione di filtro allora mi creerà un nuovo array eccetera qui si capisce subito ok quindi la programmazione funzionale è un paradigma di programmazione un po' come la programmazione imperativa e così via quindi quella tradizionale che avete imparato al primo anno di informatica in cui ci sono alcune peculiarità le funzioni prima di tutto devono essere qualcosa che si maneggia in maniera facile non può essere estremamente complicato maneggiare le funzioni se non si perde tutta l'utilità della programmazione funzionale esistono queste funzioni higher order di ordine più elevato che sono quelle che prendono le altre come callback e quindi come funzioni da utilizzare per svolgere le loro operazioni abbiamo visto prima la sort la filter e così via dobbiamo essere in grado di comporre le funzioni e vedremo che molte delle funzioni che abbiamo a disposizione sui array soddisfano in javascript soddisfano questa cosa e anche comporle in una in una catena quindi da un lato dobbiamo essere in grado di riceverle come parametri dall'altro comporle in una catena di operazioni perché di nuovo non è che sempre abbiamo solo da filtrare magari c'è da fare ordinamento e filtro oppure ordinamento mappatura di quello che c'è prendendo solo una certa parte facendo una soma eccetera adesso andiamo a vedere degli esempi un po' più complicati ecco una cosa da ricordarsi attentamente quando abbiamo a che fare con la programmazione funzionale è che diciamo uno dei cardini di questo tipo di approccio è che dobbiamo cercare di evitare di cambiare gli elementi su cui lavoriamo cioè sempre ritornare nuovi elementi nel caso degli array ritornare sempre un nuovo array perché perché se vado a cambiarlo poi la funzione dopo o le funzioni dopo potrebbero non diciamo non funzionare correttamente perché magari si aspettavano di lavorare sull'array originale quindi non cambiare gli oggetti in place quindi nel caso degli array non andarne a cambiare il valore al loro interno perché perché poi appunto mi crea poi una serie di problemi in quello che abbiamo detto prima cioè se voglio mettere le cose in catena eccetera eccetera poi magari c'è qualcosa che non funziona quindi ritornare sempre un nuovo elemento per esempio nel caso degli array un nuovo array sugli array ed è sono la cosa sulla quale useremo più frequentemente la programmazione funzionale anche quando programmiamo nel browser lo diciamo proprio per usarlo nelle applicazioni web abbiamo tutta una serie di metodi che corrispondono a questo paradigma che quindi prendono come parametri delle funzioni per esempio il for each che abbiamo un po' intravisto ma abbiamo detto vabbè poi ne riparliamo adesso ne stiamo riparlando quindi processa ogni elemento con la callback f ed è quella che abbiamo visto prima nell'esempio abbiamo every e sum che controllano se la condizione è soddisfatta per tutti gli elementi oppure almeno per un elemento ogni tanto abbiamo bisogno di sapere che sono tutti maggiori di zero allora every funziona che verifica se è maggiore di zero e questa mi ritornerà true se è così per tutti oppure sum per dire ma ce n'è almeno uno maggiore di zero sì allora mi ritorna true queste ritornano dei boolean e poi abbiamo delle funzioni che ritornano un nuovo array in particolare quelle che abbiamo visto prima filter e poi la map che adesso andiamo a vedere e poi c'è una funzione un po' particolare che è la reduce che tra l'altro qualcuno ha suggerito di utilizzare forse però nell'altro corso ci ha mandato la pure su git per dire provate a usarla reduce se lo faremo per andare a calcolare un risultato in maniera progressiva passando tutti gli elementi del nostro oggetto per esempio nel caso dell'array del nostro array ok andiamo a dare un'occhiata a queste funzioni for each for each è un iteratore diciamo è l'equivalente di scrivere il nostro for for const l in no off non in perché abbiamo detto non in ma off bene possiamo scrivere direttamente punto for each mettere la callback e e quindi riusciamo a scrivere del codice che diciamo speriamo sia più leggibile quindi meno for mettiamo e meno dobbiamo rovellarci su che cosa stiamo cercando di scrivere o fare nel nostro codice andiamo a dare un'occhiata nel nel nostro video studio code quindi con l'esempio della slide di nuovo ok facciamo ripartire stamattina un po' lento ok ah sì scusate ogni tanto qualche inconveniente va bene qui siamo ancora sul terminal questo normale terminale dobbiamo andare sulla debug console per vedere l'output del nostro debug ok se fossimo sul terminal avremmo dovuto riscrivere node test ok qualche inconveniente fa bene così vediamo appunto cosa fare quindi abbiamo letters letters è un array che contiene tante stringhe ogni stringa un singolo carattere perché abbiamo usato i tre puntini così ripassiamo su una stringa che la divide in n caratteri lo vedete qui a sinistra in realtà i caratteri non esistono in javascript abbiamo detto in stringhe di un carattere poi va bene creo una stringa vuota e poi faccio letters che a questo punto è un array perché l'ho creato le parentesi quadre è un array for each e passo una callback di nuovo sotto forma di arrow function perché perché se mi metto a scrivere function aperta graph return eccetera si perde un po' l'utilità di tutta questa programmazione funzionale perché la programmazione funzionale è fatta per cercare di mettere le cose in maniera semplice io leggo conosco più o meno la sintassi e riesco a capire che cosa sta facendo il codice leggo allora for each per ogni elemento di letter faccio prendo letter notate che qui ci posso scrivere quello che voglio x x questo è un parametro di una funzione x uppercase più uguale x to uppercase cioè la prendo ne faccio il maiuscolo e la aggiungo uppercase che è una stringa sapete che le stringhe possiamo manipolare col più per fare la concatenazione fosse stato un array dovevo fare diversamente o facevo push o facevo concat e così via ok quindi qui non ritorno alcun valore faccio semplicemente un'operazione che va a modificare qualcosa al di fuori dell'array quindi proprio come dicevamo con la idea dell'approccio funzionale poi me lo stampo vediamo che non abbia fatto pasticci continua a funzionare sì hello world ok bene quindi appunto questa è solo la variabile che è il parametro dell'arrow function quindi la posso chiamare come mi pare pippo pippo è importante che poi la uso nella body quindi nel codice dell'arrow function per fare quello che devo fare ok quindi for each l'abbiamo vista funzionare in pratica invoca la nostra callback sincrona ogni volta per ogni elemento di questi oggetti iterabili iterabili vuol dire che li posso scorrere con un for of in parole povere e questi sono ovviamente gli array ma sono anche le le stringhe anche le stringhe sono iterabili e in una certa qual misura anche gli oggetti dipende da che cosa voglio andare a prendere la callback tra l'altro può avere tre parametri noi ne abbiamo messo uno solo perché come sapete javascript se noi li mettiamo gli dà valore undefined e va avanti lo stesso non ha bisogno del match tra i parametri della chiamata e i parametri di quando andiamo a eseguire la funzione della definizione anzi quindi il primo è il valore ed è quello che abbiamo usato il secondo è l'indice opzionale l'indice all'interno dell'array corrente e il terzo è il riferimento all'array perché magari ho bisogno per qualche motivo di fare riferimento all'array ho bisogno che so mi interessava la length devo calcolare un nuovo valore sulla base della length dell'array e allora se non ce l'ho nella callback diventa complicato cioè perdo la possibilità di usare la programmazione funzionale mi devo scrivere il mio ciclo for eccetera oppure ogni tanto ho bisogno dell'indice prendo tutti gli elementi dispari esempio che vediamo tra un secondo e se non so l'indice come faccio non è che posso basarmi sul valore la funzione la callback anzi ritorna sempre undefined ed è una di quelle che non è no scusa il for each non la callback il for each ritorna undefined è una delle poche che non può essere messa in catena con delle altre quindi la map filter eccetera però ogni tanto c'è utile quindi la vediamo non c'è modo di fermarla quindi non posso scrivere break nella callback e si ferma se non lanciando un eccezione e questo questo appunto se dovete fermarvi per qualche altro motivo allora o dovete scrivere la callback diversamente e non agire sugli elementi su quali non vi interessa però continuate nel ciclo oppure dovete usare un altro approccio c'è niente da fare oppure usate questo meccanismo delle eccezioni che è un po' appunto però un po' più complicato il for each non cambia l'array sul quale viene chiamato attenzione perché la callback può farlo anche se è fortemente sconsigliato perché va contro quel principio di functional programming programmazione funzionale di cui dicevamo prima perché se vado a modificare l'array dentro for each poi mi ritrovo con un array diverso e non è diciamo quello che è previsto dal paradigma funzionale quindi io leggo le cose pensando che funzionano in una certa maniera poi me le ritrovo diverse e allora sto un po' perdendo l'utilità di leggere e capire facilmente ok quindi c'è una domanda benissimo qui siamo noi ok quindi la for each modifica l'array in place no no appunto solo se io vado a farlo mi viene modificato quindi adesso proviamo qualche esempio quindi se io se io qui dentro scrivo che so x scrivo ecco facciamo pure l'esempio così facciamo un po' di pratica x i index anzi chiamiamolo index così vi ricordate che cos'è x index e noi anziché uppercase scriviamo letters di questo non è proprio raccomandato è di agire così letters di index ok x to uppercase console log non più uppercase ma letters però a questo punto no dovrebbe funzionare non lo so facciamo una prova allora a caso migliore sempre fare una prova ecco me lo fa esatto infatti nonostante sia cost perché vi ricordo se io scrivo letters uguale se io scrivo letters uguale lui mi darà errore cost non si può modificare ma se io sotto il naso se io sotto il naso vado ecco questo non si può fare sotto il naso vado a cambiare quello che c'è puntato dal riferimento e ovviamente cioè questo non è che javascript può andare a capire ricorsivamente tutto ciò che era stato dichiarato come const all'inizio e quindi è un riferimento const a questo non posso cambiarlo eccetera e chiaramente su questo non ci può far nulla però diciamo il const ci salvaguarda almeno da quell'errore che avrei fatto che sto assegnando direttamente vedete io posso andare a modificarmi l'array anche sul quale ho chiamato il for each certo che non è una buona pratica di programmazione perché perché sto ciclando su quell'array ma lo vado a modificare e se tolgo degli elementi cosa succede onestamente non lo so ma non mi interessa perché se programma in questa maniera è sicuro che prima o poi mi esce un bug da qualche parte mi faccio piuttosto appunto voglio usare for each mi creo un nuovo array mi creo una nuova stringa e così via ok c'è una domanda come fa index a essere aggiornata ogni interazione e per come è scritta la for each è la for each che me lo fa io non devo preoccuparmi di di questa cosa la for each nel suo codice adesso abbozzo qui no ma la for each nel suo codice avrà un qualcosa tipo for for diciamo così a b no of dunque letters entries no avrà un qualcosa che poi mi fa mi chiama mi chiama la mia callback no così con dunque entries era b a no b è il secondo il valore e a è l'indice quindi dentro la for each ha questo ha questa chiamata no io l'ho chiamata callback perché la arrow function non ha un nome no non gli abbiamo dato un nome potevamo definire fuori eccetera se volessimo dargli un nome però non ci interessa è un parametro della nostra funzione no quindi function for each potreste provare a scriverla per esercizio function for each solo che poi bisogna metterla come membro di un oggetto non potete usare gli array perché dovesse andare a redefinirla eccetera for each callback l'unica cosa che è lettera appunto dobbiamo andarcela a recuperare col dis eccetera è una cosa più complicata e non diciamo non riusciamo in questo momento quindi spero di aver risposto alla domanda come fa index essere aggiornata in generazione semplicemente la for each o comunque tutte queste funzioni applicate agli array che usano questo approccio di programmazione funzionale ogni volta che hanno bisogno di chiamare la callback aggiornano i parametri della callback ok così come ci aggiornava x x ogni volta passava da un elemento all'altro dell'array index alla stessa maniera ci viene aggiornato ok every due parole proprio queste sono banali basta provarle every testa tutti gli elementi quindi stessi argomenti del for each quindi uno e poi due opzionali quindi il valore poi l'indice e l'array ritorno a un boolean vero o falso eccetera quindi every x x minore di 10 vero perché sono tutti minore di 10 x x per 102 uguale uguale a 0 false non sono tutti pari ecco sum testa se almeno un elemento passa il test e smette di testare tutti gli altri quindi immediately return true anche se l'array è grosso smette subito notate gli possiamo passare qualsiasi funzione è anche una funzione già predefinita per esempio is none che è predefinita e lui ci dirà false perché nessuno è is none c'è una domanda immagino che l'assignatore di una callback se volessi creare una funzione che accetti una callback ed è dotta dall'uso dentro la funzione no sì esattamente sì rispondiamo così ed è dotta dall'uso che se ne fa dentro la funzione per forza e quindi siccome la funzione il for each eccetera non l'avete scritta voi se non sapete come funziona il meccanismo è sempre il solito quindi facciamolo una volta così mozilla developer network for each for each e il manuale vi dirà che cosa si aspetta la for each callback funzione da eseguire su ogni elemento accetta tra uno e tre parametri valore corrente indice opzionale array opzionale pagina di manuale non l'avete scritta voi se la scrivete voi lo sapete e quindi si deduce da come la usate ok perfetto ok veniamo a qualcosa di più interessante non che ciò che abbiamo fatto fino a non sia interessante almeno spero però la map sicuramente è un po' più utilizzata diciamo del diciamo almeno del sum every eccetera map dunque il map praticamente passa qui sta per scorre scorre ogni tutti gli elementi dell'array sulla quale viene invocata e e chiama la funzione che passiamo come parametro quindi la callback che passiamo come parametro solo che in questo caso la callback deve ritornare un valore e questo valore viene preso e viene aggiunto automaticamente ad un nuovo array che la map ci restituisce come valori di ritorno quindi esempio costa 1 2 3 map x x al quadrato questo è un valore di ritorno è come se avessimo aperto aperta graffa return x per x è la sintassi della arrow function cerchiamo di abituarci e quindi b sarà un array quindi diciamo che il mi ha fatto praticamente tutto quello che io dovrei scrivere a mano nuovo array uguale aperta e chiusa quadra for eccetera eccetera facciamo l'operazione sull'array nuovo array push del valore della ritornata dalla callback quindi per vedere l'esempio si andiamola da proprio lo facciamo giusto non lo faremo sempre però per fare un po' di esercizio e usare Visual Studio Code così siete pronti per il prossimo laboratorio questo è lo stesso codice dell'SDAI sempre ok c'è poi qualcosa che non è andato ma adesso lo primo 149 poi c'è qualcosa che non ci quadra quindi letter cosa mi ha fatto letter sell word letter letter to uppercase forse la tua perché no la tua perché dovrebbe ritornare il valore ma cosa cosa che non va facciamo una prova uppercase is not defined ogni tanto il debugger è un po' un po' criptico let uppercase perché in realtà io mi ero fatto un altro esempio non ne ho fatto copia ancora di un pezzo così avete visto anche come gestirvi i problemi con il debug ok hello world e ci siamo map nuovo array non ho dovuto scrivere let uppercase aperta chiusa quadra e così via me l'ha fatta automaticamente la map mi ha creato un nuovo array quindi uppercase letters due sono due array diversi infatti lo vedete se ci passiamo sopra col mouse vedete che ancora tutto è minuscolo invece l'altro è maiuscolo ok dobbiamo sempre no no l'istruzione debugger è una comodità l'istruzione debugger è una comodità quindi se noi dunque le eseguiamo adesso forse dovevo cancellare la console facciamo prima ok dovrebbe funzionare sì solo che ogni tanto appunto ci stampa le cose in maniera che se non c'è il debugger attivo non non mi fa vedere il valore degli oggetti eccetera non posso scrivere all'inizio perché l'istruzione debugger che tra l'altro è un'istruzione javascript presente fin dalle prime versioni e fa bloccare il programma e fa aprire il debugger e quindi se me lo blocco prima il resto del programma non viene eseguito se io metto debugger qua non funziona più nulla ok facciamo la prova tanto facciamo esperimenti e rimango qui no se voglio vado anche avanti e mi eseguo passo passo va bene però appunto e la metto dove voglio che si fermi il debugger cioè il programma aprendo il debugger ok quindi abbiamo dato un'occhiata alla map alla fine facciamo poi un esempio un po' più complicato con la map diamo un'occhiata alla filter map filter reduce usiamo tutti e tre in un unico esempio che conclude un po' questo discorso la filter l'abbiamo già vista prima crea anch'essa un nuovo array con gli elementi che passano il test della callback che abbiamo messo se nessun elemento passa ci ritorna un array vuoto ecco qui vedete l'esempio con l'index sì me l'ero fatto quindi l'index e posso anche usare solo l'index non è che sia obbligatorio usare il valore io le cose le uso come come piace a me scrivo debugger per comodità ma quindi 2 1 e questo ho testato il valore ma io posso anche usare solo l'indice non mi interessa infatti vedete che element rimane colore un po' più oscuro no? perché non è usato ma non è un problema l'index per cento 2 uguale a 0 se il resto della divisione con 2 è uguale a 0 ritorna true e quindi vuol dire che prendo tutti gli elementi di indice dunque indice pari no? e perché parte da 0 e quindi 0 1 2 3 4 quindi il 5 il 3 e l'1 volendo c'è una domanda esiste l'estensione coderunner che semplicemente fa lanciare il file selezionato con nome file usando un bottone una shortcut ho notato che se legisce di molto e lancia dei programmi sì ok grazie sì è pieno di estensioni che possiamo andare a diciamo cercare adesso giusto per farvi vedere appunto di cosa parla il vostro collega e potete sperimentare eh piuttosto se poi c'è qualcosa che non va o la disinstallate o la insomma ristallate tutto tanto siamo all'inizio è facile eh grazie mille dell'indicazione eh in realtà eh adesso eh stiamo usando questo metodo un po' grezzo perché appunto stiamo provando degli esempietti proprio semplici nel momento in cui cominciamo a avere un modulo come quando abbiamo poi il database eccetera allora facciamo diciamo una struttura un po' più ragionevole di eh di node e possiamo anche fare un file di configurazione in cui c'è scritto come lanciarlo però poi mi fissa il file eccetera non vorrei complicare troppo all'inizio ma prima della fine della lezione lo facciamo ok ehm avanti se no non lasciamo a finire reduce ecco reduce è un po' particolare probabilmente avete sentito parlare no di map reduce che è quel sistema che si usa con nell'ambito dei big data per cui c'è stato tanti dati eccetera alla fine deriva dalla programmazione funzionale operazione di map diciamo tratta i dati dati che tipicamente sono array no array di dati reduce condensa i dati in un risultato in qualcosa di diciamo riassuntivo reduce funziona in questa maniera prende eh una callback no che serve a combinare insieme gli elementi dell'array passandoli però uno per uno e produce un solo valore a differenza delle altre non produce un valore che è un array ma produce un unico valore eh prende due argomenti la callback quindi di nuovo anzi in realtà quattro ma due sono opzionali e uno è eh la ehm la reducer function quindi questa è eh una un eh una callback che prende appunto come come parametro una eh una function che è quella che fa la riduzione cioè prende due valori eh due valori di cui uno è quello dell'array eh e li mette insieme che so ne fa la somma per dire io volessi fare la somma con il radius di tutto l'array deve fare la somma e il secondo valore è il valore corrente eh col quale far la riduzione per esempio in questo caso la somma eh e quindi all'inizio nella callback noi scriveremo il valore iniziale per esempio per una somma zero per una moltiplicazione uno e così via e poi ho a disposizione anche scusate anche in questo caso l'indice e l'array eh no scusate ho sbagliato vi chiedo scusa questo è il valore corrente no il valore iniziale è opzionale ed è più avanti ehm altrimenti viene usato il primo elemento dell'array eh scusate la callback viene chiamata all'interno della reduce quindi la callback per forza deve avere due parametri e come abbiamo visto prima la callback ehm ci pensa la la reduce in questo caso a chiamarla la callback si aspetta due parametri no quindi si aspetta eh il eh diciamo eh quello che la reduce ha calcolato prima quindi l'accumulator e il valore corrente che è quello della dell'elemento dell'array che sta processando guardiamo l'esempio perché si capisce sicuramente di più di questa spiegazione quindi se io faccio così reduce accumulator current value eh accumulate più current value e questa è quello che svolge la callback ok eh e zero è quel valore iniziale di cui vi dicevo prima che per la verità in questo caso no non possiamo ometterlo perché se no ci sono una cosa in più però zero è il valore iniziale per fare la somma quindi all'inizio somma zero e questa fa quando va avanti prende il valore iniziale zero che è l'accumulator il current value è cinque il primo giro fa zero più cinque fa cinque cinque diventa l'accumulator cinque quattro cinque più quattro nove nove diventa l'accumulator e va avanti così ok e quindi ci condensa tutto in un unico valore e alla fine ovviamente ci troviamo la somma perché abbiamo siamo partiti da zero potremmo trovarci la moltiplicazione di tutti i valori eh quindi partiamo da uno all'inizio nell'accumulator qui ho abbreviato acce acce c'è uno uno per cinque cinque l'accumulator diventa cinque cinque che l'accumulator per quattro diventa venti e ho processato il secondo elemento venti l'accumulator per tre diventa sessanta e l'accumulator diventa sessanta sessanta per due cento venti cento venti per uno cento venti alla fine ci produce cento venti oppure può anche essere una funzione non necessariamente matematica quindi se io faccio accumulator maggiore di val punto interrogativo questa è una maniera di scrivere un if avrei potuto per la parentesi graffa if no è la stessa sintassi c se l'accumulator maggiore di val accumulator ritorna l'accumulator e quindi l'accumulator resta uguale altrimenti diventa val l'accumulator diventa val e questo è la maniera per creare per fare il massimo perché se quello che ho correntemente è più grande del valore dell'array vuol dire che quello è il massimo corrente altrimenti vuol dire che lo devo sostituire col valore corrente dell'array e quindi è il classico algoritmo per fare il massimo queste cose le provate adesso andiamo a provarle secondo me bisogna bisogna farci un attimo la mano quindi facciamo salvo eseguo e vedrete che effettivamente funzionano fate qualche prova e adesso vediamo se mi riesce non so se se riesce ad essere così sofisticato il debug possiamo fare una prova vedere se riesce a farlo questo è veramente live non l'ho provato prima però ogni tanto è anche giusto fare qualche prova provate appunto entrare con la freccia in giù che vuol dire entrare nella funzione vedete hatch e val così vedete evolvere hatch e val vedete che hatch diventa 5 5 per 4 return value diventa 20 e il prossimo hatch diventa 20 20 20 per 3 e così via quindi potete anche debuggare dentro la callback perché la callback è sincrona e quindi è molto più facile da debuggare rispetto a quello che vediamo tra un attimo tra poco quindi provate fate queste prove perché così vi rendete conto di che cosa succede veramente ok guardiamo l'ultimo esempio che è più complicato complicato nel senso solo perché mette insieme tutto quello che abbiamo visto finora non apro la slide ma faccio così abbiamo un array un array di oggetti che è la condizione tipica nella quale vi troverete nelle vostre applicazioni web perché di solito avete una lista da visualizzare nel browser e una lista di oggetti perché dovete magari avete due campi tre campi quattro campi qualcosa e quindi per forza avete un array da visualizzare in qualche forma in una tabella in una lista in qualche forma e quindi questa è la condizione proprio tipica ed è il motivo per cui abbiamo parlato tanto appunto di programmazione funzionale e così via perché appunto è la maniera più semplice per processare in javascript questi array diciamo che abbiamo in questo caso un array di oggetti appunto con quattro proprietà ognuno qui li abbiamo appunto dichiarati in maniera statica avremmo potuto averli caricati dal db eccetera vediamo come si fa dal db e devo farci sopra dei calcoli per esempio voglio conoscere la media del prezzo dei SUV questi sono automobili no veicoli che hanno un costruttore un modello un tipo che è quello che mi interessa il prezzo no allora cosa faccio average va bene ok uguale vehicles vehicles è l'array iniziale punto filter prima di tutto mi vado a prendere un nuovo array perché filter ritorna vi ricordo un nuovo array che abbia come tipo solamente SUV e quindi filter ha una callback che ritorna true solo se v type v è l'elemento corrente dell'array uguale a SUV poi poi a me non interessa tutto l'oggetto a me interessa avere solo il prezzo e quindi una volta che li ho filtrati faccio v freccia v price cioè ho un array di soli numeri che sono i prezzi e a questo punto uso reduce e ci faccio la media la somma l'abbiamo vista prima la media adesso vi faccio vedere come si fa la media usiamo un piccolo trucchetto nel senso che facciamo la somma però siccome non vogliamo fare la divisione alla fine perché se no appunto ci perdiamo questa eleganza del metodo funzionale semplicemente partiamo da zero e tutte le volte sommiamo il prezzo già diviso per la lunghezza dell'array perché l'array già lo sappiamo quanto è lungo ed è per questo che ci può servire l'array come parametro della callback quel quarto parametro opzionale perché se scriviamo array.length ce l'abbiamo a disposizione nella callback e quindi facciamo la divisione ogni prezzo già divise quindi il risultato è già la media perché ho già diviso tutti quanti per array.length ok quindi così ho tirato fuori il mio risultato poi potete provarlo ma insomma viene l'ho provato dovrebbe funzionare e potete anche questo debaggarvelo separatamente per pezzettino oppure assegnate l'array intermedia ad una variabile se vi volete fare le cose con un po' più di chiarezza eccetera e potete farlo tranquillamente ok direi che se non ci sono dubbi o domande sulla parte di programmazione funzionale abbiamo provato questo esempio incominciamo la programmazione asincrona proviamo a dire qualcosa prima della pausa e poi andiamo a fare cioè nella pausa ci ragionate sopra e poi andiamo a fare dei ragionamenti più complessi nella seconda ora e mezza ok non vedo domande su programmazione funzionale si tratta solo di fare un po' di pratica non è niente di così complicato ok javascript è single traded questo ricordatevelo bene molto molto bene che vuol dire che quando sta eseguendo un pezzetto di codice non può fare altro non c'è il modello multi trader che c'è in altri linguaggi peraltro usando librerie esterne javascript è single traded o fa una cosa o ne fa un'altra quindi vuol dire che se sa che c'è del resto da fare lo metti in coda e lo farà dopo ok quindi il codice è inerentemente sincrono nel senso che il nostro codice finora l'abbiamo scritto l'abbiamo scritto in una maniera come lo scrivevamo in maniera tradizionale tipo c e così via cioè istruzione 1 istruzione 2 eccetera cioè se sta eseguendo del codice va istruzione dopo istruzione non è che fa qualcos'altro non è che può essere interrotto non può essere interrotto e allora come facciamo a scrivere del codice asincrono cioè mettere del codice in maniera che venga eseguito successivamente dopo oppure ad un certo punto venga eseguito al verificarsi di certe condizioni e così via bene allora per esempio non so diciamo tra due secondi stampa qualcosa tra due secondi fai una chiamata al server tra due secondi visualizza qualcosa nel browser eccetera come facciamo a farlo funzionare se non abbiamo il comportamento asincrono cioè bene allora l'ambiente di esecuzione di javascript funziona in maniera che se sta eseguendo del codice esegue quel codice ma se non sta eseguendo del codice è o in attesa che ci sia del nuovo codice da eseguire per esempio se abbiamo impostato un timer come faremo tra un istante quindi sa che c'è qualcosa che prima o poi dovrà essere eseguito e quindi aspetta oppure nel browser è sempre in attesa e questo è quello che viene chiamato event loop del browser è sempre in attesa noi quando abbiamo una pagina nel browser visualizzata a schermo siamo sempre in attesa che l'utente faccia qualcosa nel momento in cui l'utente clicca passa il mouse eccetera cioè genera un evento l'interprete javascript se c'è del codice collegato a quell'evento riprende l'esecuzione da quel codice ok però è in attesa no è in attesa di un evento oppure nel nostro esempio in cui non abbiamo ancora il browser è in attesa che ci sia qualche codice da eseguire perché abbiamo impostato un timeout quindi c'è un timer che sa che dovrà scadere e allora aspetta quindi come facciamo giusto per fare una prova appunto l'ambiente di esecuzione ci mette a disposizione un paio di chiamate interessanti che sono la set timeout che dicono al verificare dopo che è trascorso un certo tempo questo è il tempo viene dato in millisecondi in questa chiamata esegui qualcosa e come facciamo a dire esegui qualcosa beh è il solito meccanismo di prima abbiamo le callback cioè passiamo una funzione come parametro la differenza rispetto a prima è che la passiamo come parametro la set timeout se la ricorda ma non la esegue subito quando si verifica l'evento in questo caso l'evento è sono passati due secondi verrà eseguito quel codice quando l'interprete javascript non sta facendo niente altro cioè non ci può interrompere il codice non è un interrupt deve esserci l'interprete javascript che non sta facendo niente altro ok lo proviamo lo proviamo però proviamo l'esempio no era questo scusate vado solo a vedere ecco era questo qua che volevo farvi vedere quindi lo proviamo tra un istante prima qualche considerazione quindi occhio che adesso ci addentriamo in un argomento abbastanza ostico ma è fondamentale capirlo perché tutta la programmazione web funziona così quindi è assolutamente necessario capire il meccanismo di programmazione asyncona di javascript se non avete capito qualcosa chiedete anche nei laboratori dove insomma siamo un po' più rilassati abbiamo meno fretta e così via è il meccanismo alla base del funzionamento del web perché tipicamente il browser sta lì a fare niente cioè non c'è codice in esecuzione a meno che non ci sia l'utente che ha interagito quindi ci sia un evento e quindi è tutto sincrono tutto parte dall'utente che interagisce oppure nel nostro caso faremo il lato server dal fatto che il server ha ricevuto una richiesta http quindi una chiamata al server web ok nel momento in cui parte tutto da un evento noi abbiamo del codice ad eseguire che avremmo detto qual è con questo meccanismo delle callback abbiamo detto esegui quella funzione questa funzione però visto che javascript è single thread cioè ha un unico thread di esecuzione non deve stare lì a fare chissà quanto lavoro senza finire perché se non finisce niente altro viene eseguito il risultato nel contesto di un browser è che è tutto bloccato cioè avete la vostra bella schermata continuate a cliccare a mandare eventi e niente viene eseguito perché c'è un solo thread e allora quando scriviamo del codice asincrono dobbiamo cercare di scriverlo nella maniera diciamo così meno meno pesante possibile che non vuol dire cercare di andare a ottimizzare chissà che cosa vuol semplicemente dire che nel momento in cui abbiamo finito dobbiamo terminare non è che possiamo indugiare a fare altre operazioni oppure a fare operazioni bloccanti proprio per questo le operazioni tipicamente bloccanti per esempio nell'ambiente node nel browser l'ambiente node è leggo un file devo aspettare che il disco mi dia i dati oppure nel browser chiedo una risorsa web e devo aspettare che venga scaricata tutte queste operazioni sono implementate in maniera sincrona cioè io dico di farle ma non blocco l'esecuzione del programma registro una callback cioè passo una callback come parametro a queste funzioni e questa verrà eseguito quando il contenuto è pronto quando le cose sono pronte così io posso andare avanti eventualmente terminare e lasciare che l'interprete javascript vada a eseguire ciò che c'è da eseguire cioè per esempio un altro gestore di evento perché l'utente ha generato un altro evento perché clicca come un disperato nel browser ok e però l'interfaccia reagisce perché io non appena posso smetto di eseguire il codice e lascio che l'interprete passi al prossimo evento ok quindi il più possibile scrivere codice diciamo pezzettini di codice senza esagerare in quello che si deve fare se si deve fare una cosa che si sa che è lunga bisogna che sia implementata in maniera sincrona se no blocco tutto e le primitivi che ci mettono a disposizione di solito appunto sono asincrone quindi non bloccanti ok quindi fondamentalmente sono le funzioni di prima che io riuso come callback quindi passate come parametri a delle altre funzioni per esempio questa è la lettura da tastiera che onestamente è un esempio un po' artificiale perché insomma nessuno usa node per leggere dalla tastiera però per esempio per leggere da un db per fare le chiamate al server web eccetera passiamo a delle funzioni che vengono richiamate quando il contenuto è pronto quindi questo è un meccanismo che va benissimo per le cose semplici cioè che so appunto read line questo esempio non lo proviamo perché poi tanto non lo usiamo in laboratorio eccetera l'anno scorso lo facevamo però diciamo è molto artificiale quindi abbiamo preferito appunto provare quel database che è una cosa che ci serve di più ci fa risprimare tempo e lo stesso ci fa vedere le questioni dell'assincro quindi qui diciamo read line question quindi question è la funzione che dice stampa qualcosa a video e aspetta un input aspetta un input è proprio l'interazione di input output tipica finché l'utente non scrive non si fa niente ma qui non blocca qui gli passa una callback answer bene answer è quello che l'utente ha scritto dopo aver premuto invio e poi processo come mi pare description magari ci metto un console log è quello che voglio e poi faccio close non faccio quello che voglio tutto nella callback perché codice che viene eseguito solo al verificarsi di un evento ok proviamo col timer ecco il timer secondo me ci dà ci dà un pochino più soddisfazione e questo lo proviamo perché voglio farvi vedere almeno una cosa asincrona semplice nel nel Visual Studio Code poi appunto andiamo agli esempi più complicati con con il con il ecco stavolta tolgo debugger consentitemi stavolta di togliere debugger devo anche fermare il programma prima salvare io salvo sempre non ve lo faccio vedere lo faccio con la combinazione di tasti ma ricordatevi sempre di salvare mi sembra scontato però quindi facciamo la prova eseguiamo notate l'output high due secondi hey ok quindi cosa è successo notate che la cosa che è scritta dopo è stata eseguita prima console high quindi io const one sec uguale un set timeout ok a cui passo una callback la callback è questa funzione error function di nuovo per non scrivere tutto function aperta chiusa tonda eccetera aperta graph return aperta chiusa tonda nessun parametro perché perché non ho bisogno di parametri freccia che cosa fa la cosa più semplice del mondo stampa console log hey e gli dico di farlo alla set timeout che è una funzione definita disponibile nell'ambiente di esecuzione sia in node sia nel browser gli dico di aspettare un secondo cioè mille millisecondi mille millisecondi e poi mi chiami questa callback ok e poi il programma va avanti il programma va avanti e fa console.log high quindi io non ho eseguito console.log hey quella di sopra perché ho solo detto che tra un secondo quando potrai esegui console.log hey però intanto scrivi high e poi il programma è terminato ma non è che l'interprete javascript smette di lavorare perché ha questo timer in attesa e sa che quando finirà quel timer ci sarà del resto da eseguire quindi c'è un evento che si verificherà nel futuro lo sa e aspetta quindi proviamo a rieseguirlo sia dentro sia fuori nod nod high e poi un secondo prima ho detto forse due secondi se ho sbagliato un secondo hey se lo eseguite fuori nel terminale adesso facciamo pulizia credo sia no ho fatto kill terminal quindi ho sbagliato new terminal ok nod e test notate avete visto che è stato lì in attesa non aveva più niente da fare ma è stato in attesa questo è l'event loop no cioè aspetta nuovi eventi ovviamente questo non è un browser e quindi non è che si possono aspettare eventi dall'utente e l'unico evento che si può aspettare qui è un timer se c'è visto che c'è aspetta ancora una volta è lì e non termina termina solo dopo possiamo allungarlo un po' giusto per è lì e aspetta nodo non ha ritornato ritorna quando sa che non c'è proprio più niente da fare ma perché perché sa che cioè non ci sono input diversi da quelli che possono essere interni al programma nel nostro caso nel browser è sempre in attesa perché aspetta l'input del utente ok c'è una domanda perché dobbiamo assegnare a one sec ecco perché se io volessi cancellare il time out se no non so come fare quindi andiamo sulle slide se no potevo tranquillamente farlo senza se io sono sicuro che non devo cancellarlo lo faccio senza quindi facciamolo pure senza facciamo la prova rieseguo il codice e funziona tutto uguale la differenza avviene nel momento in cui io devo andare a cancellare il timer quindi se non ho qualcosa che mi dice quale timer è da cancellare non posso andare a cancellare notate che la funzione può essere anche più complicata per esempio può prendere dei parametri e io semplicemente posso andargli a dire quindi posso usare una funzione che prende anche dei parametri quindi non necessariamente con parametri però devo dirgli poi cosa passargli ecco qui è più chiaro time out generalmente se imposto un time out che è una cosa unica non ho bisogno di cancellarlo però io posso anche impostare un time out scusate un timer ricorrente set interval quindi ogni due secondi mi richiami la mia funzione in questo caso è vuota vabbè non farà niente ma se ci metto un console log ogni due secondi stampa qualcosa ecco come faccio a farlo smettere perché questo non smette più questo lo dovete chiudere col col troc con lo stop del debugger perché se non cancellate il timer questo va avanti clear interval e c'è questo id che è un handle un oggetto che serve a ricordarsi qual è il timer e lo stesso oggetto viene ritornato anche dalla set time out ok quindi set time out se appunto ho questo oggetto posso andare a fare mi sembra forse clear time out o qualcosa di simile per andare a dirgli guarda non mi interessa più non cancella il time out che vuol dire che quella call back non verrà eseguita allo scadere del tempo e quindi fine ok gestione degli errori nelle call back ecco questo è un punto un po' dolente tra l'altro un punto che ci porterà a parlare di tutto il resto di quello che viene nella prossima ora e mezza perché nelle call back semplici come abbiamo visto fino a questo punto non c'è un maniera ufficiale ci sono solo delle best practice per esempio la trippica strategia di node per gestire gli errori è quello che il primo parametro della call back sia l'errore questo vale non tanto per le funzioni in cui non c'è un particolare errore che si può verificare come appunto prima set time out set interval quelle dopo un po' chiamano fine non è che c'è un errore particolare però per esempio che so leggete un file da disco può non esserci file può non essere apribile non leggibile non avere i permessi il file il nome del file non esiste non è corretto non lo so mille errori se è sincrono come fate in C open ebbè il valore del ritorno della open se non è quello che vi aspettate è l'errore ma se è sincrono l'errore va gestito dalla call back quindi va gestito dal codice che abbiamo scritto nella call back che vuol dire che qualcuno deve dire qual è stato l'errore e per dirglielo deve essere un parametro della call back che appunto tipicamente se voi andate poi a vedere che so read file contesto node eccetera è il primo parametro della call back di nuovo come abbiamo detto prima la call back è usata dentro la funzione in questo caso read file non l'abbiamo usata noi dobbiamo leggere la pagina di manuale per sapere come la usano e quindi noi fornire i parametri e regolarci sulla base dei parametri secondo l'interpretazione di chi ha scritto la read file ok comunque siccome tanto torniamo su queste su queste questioni tanto vale che appunto ne parliamo poi poi dopo dunque 11 17 lasciatemi accennare al database e poi poi facciamo un po' di pausa parliamo di database perché appunto lo usiamo nel server web e ci serve per immagazzinare i dati perché non è che ci mettiamo noi a scrivere leggere file soprattutto quando i dati diventano un po' complicati oramai siete alla laurea magistrale avete sicuramente fatto un corso di database sapete manipolare due tabelle anche di più con come si chiama con le SQL e quindi usiamo qualcosa di semplice perché non vogliamo complicare troppo il corso ma che ci consente diciamo di avere una gestione dei dati un po' ragionevole quindi node che è quello che usiamo per il lato server perché appunto così abbiamo deciso per non usare un nuovo linguaggio di programmazione un nuovo ambiente eccetera supporta comunque tutti i maggiori database tutti quelli che vi potete sognare e noi abbiamo usato è SQLite che è la versione forse più semplice che possa esistere cioè fondamentalmente non è un server database server quindi non è un processo a se stante ma è semplicemente una libreria che si gestisce un piccolo database su un file e quindi fondamentalmente tutte le volte che vogliamo andare ad operare su questo database facciamo delle chiamate alla libreria la libreria anziché andare a contattare un database server vero con tutte le sue problematiche eccetera semplicemente lo fa all'interno del nostro processo con del codice scrive legge da un file che si gestisce in autonomia ma noi lo possiamo interrogare come se fosse un database server vero cioè con linguaggio SQL come siamo abituati e così via per questo è in process nel senso che non c'è un processo separato e questo è anche il motivo per cui ci serve la sincrono su file semplicemente c'è un unico file copiamo il file e abbiamo copiato il database non tutto il pasticcio che c'è in tutti i database più complicati che chiaramente sono molto più scalabili e database relazionale perché appunto è fatto con tabelle ci sono tanti moduli che implementano questa funzionalità perché questo SQLite è un formato relativamente standard e quindi ci sono tante librerie che possono usare questo formato noi usiamo questa modulo npm SQLite quindi SQLite 3 per la verità poi facciamo vedere anche che altri ci sono però si usa in maniera molto semplice avete intravisto il dayjs e qui la stessa cosa require SQLite 3 a un certo punto parleremo meglio di moduli però adesso solo per usarli così e abbiamo questa variabile che fondamentalmente ha a disposizione una serie di metodi di cui diremmo tra un istante per aprire il database farle qui richiudere il database quindi così si apre il database new SQLite punto database nome del file che quindi per comodità teniamo nella cartella corrente quindi senza percorso e poi cosa prende una callback perché una callback perché è un'operazione potenzialmente bloccante va a cercare il file se non esiste il file se il disco ci mette un po' di tempo risponde e così via quindi nella solita logica javascript di cui abbiamo parlato quando ho finito ti chiamo una callback questa callback non ha tanto da dirci fondamentalmente ha solo una cosa da dirci se c'è stato un errore r è l'unico parametro di questa callback se volete sapere quali sono i parametri della callback dovete andare a cercare sulla documentazione SQLite database e sapere quali sono i parametri della callback che prende codice questa è una cosa una forma molto pigra ma diciamo molto funzionale all'inizio di gestire l'errore se c'è stato un errore cioè r non è falsi quindi è qualcosa che sono una stringa un qualsiasi cosa che ci viene scritto che non sia falsi throw r cioè lanciamo un'eccezione e qualcun altro se la gestirà nel nostro contesto fondamentalmente se siamo al primo livello vuol dire che la lanciamo all'ambiente l'ambiente ce la stampa ok quando siamo poi nel server web decidiamo come fare anche se per la verità nel momento in cui non riuscite a aprire il database vuol dire che non potete fare niente quindi fondamentalmente tanto vale terminare il server quando invece per le altre operazioni è un altro discorso quindi un'occhiata rapida e poi facciamo la pausa a come gestire le query le query sono fondamentalmente le query di interrogazione no quindi le select quando fate una query di interrogazione su un database in SQL select select asterisco from corsi punto virgola no normalissima query prendi tutto il contenuto della tabella come si esegue sempre con l'oggetto di prima db che è quello vi ricordo che usciva dal new SQLite database db ha una serie di metodi che sono delle proprietà che sono fondamentalmente richiamabili cioè delle funzioni sulle quali posso aprire la parentesi tonda prende come primo parametro una stringa che è la query come secondo parametro una serie di valori opzionali di cui diremo tra un po' e poi come ultimo parametro una callback tutte le chiamate del modulo SQLite 3 per gestire il database prendono una callback che viene richiamata quando l'operazione è finita se voi avete un milione di linee ci metterà un po' quando ha finito di fare le sue cose ci viene chiamata la callback ecco R primo parametro di nuovo andate a cercarlo sulla documentazione noi qui dalle slide potete leggere le slide se avete qualcosa di nuovo cercate sulla documentazione R nel caso ci sia stato un errore un errore di sintassi nella query qualsiasi cosa ho chiesto una tabella che non esiste rows sono le righe le righe risultato dell'operazione la query la select mi ritorna un insieme di righe da 0 a n rows quindi è un array ogni elemento dell'array contiene no scusate item è l'elemento dell'array ogni elemento dell'array quindi ogni item ogni riga contiene i campi del risultato sotto forma di proprietà di un oggetto quindi di fatto un oggetto e lo vediamo proprio con un esempio in pratica come faccio a scorrermi le righe e che so andare a lavorare a vedere se non so me le devo visualizzare a video me le devo trasformare in elementi html in una lista in una tabella in quello che voglio abbiamo appena imparato la programmazione funzionale maniera più 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 semplice di gestire le cose rows punto for each funzione row e ci faccio quello che voglio row name evidentemente qui c'è una colonna name nella tabella che ho richiesto nella query c'è una domanda non mi abbia in chiaro se è possibile capire dal prototipo di una funzione se la callback verrà eseguita in maniera asincrona o se devo cercare questa informazione nella documentazione non si sa devo cercare nella documentazione non si può sapere prima perché appunto bisogna capire qual è la logica con la quale è stata scritta la funzione quindi noi sappiamo che in SQLite3 tutte queste callback sono asincrone quindi vengono chiamate al verificarsi diciamo della condizione che ci consente di dare la risposta che sia un errore che sia risultato certe sono ovviamente asincrone cioè la set timeout non servirebbe a niente se non fosse asincrone però a parte questi casi veramente specifici le altre non si sa bisogna bisogna andare a vedere la documentazione comunque vedremo diciamo la maggior parte delle dei casi che ci servono appunto se poi magari avete un modulo che volete andare a usare eccetera quasi cioè nella maggior parte dei casi sarà asincrono perché se è scritto nella logica javascript se fa una cosa che può bloccare è tendenzialmente scritto asincrono se invece una cosa che non blocca come la sort la sort non è che c'è tanto da bloccare gli do due valori dimmi quale quale vuoi prima quale vuoi dopo di solito è sincrona però non fa mai male verificare se non c'è scritto niente sarà asincrona se no probabilmente c'è scritto che è asincrona ok come gestiamo il resto e poi facciamo pausa promesso quindi get è esattamente come la all di prima prende gli stessi parametri e tutto quanto ma prende solo la prima riga molto utile quando sappiamo che facciamo una query che ha solo il risultato zero riga e una riga che se interroghiamo sulla chiave primaria perché abbiamo bisogno che so di leggerci il che so username oppure verificare se lo username esiste cose di questo tipo è semplicemente una comodità each è come la all solamente che la callback viene richiamata una volta per ogni riga quindi non è che mi arriva la callback con un parametro che contiene tutto soprattutto se la tabella è grande è molto utile avere la possibilità di avere una chiamata per ogni riga e eventualmente decidere come fare quindi non ho la necessità di immagazzinarle tutte in un array che deve essere passato come parametro run e credo sia l'ultimo serve per tutti gli altri tipi di query perché chiaramente non dobbiamo fare solo select ogni tanto creiamo un nuovo utente oppure un nuovo utente ha inserito l'utente ha inserito che sono un nuovo elemento una nuova auto una nuova pizza una nuova non lo so cosa dobbiamo memorizzare una database dobbiamo fare una insert dobbiamo aggiornare dei valori dobbiamo fare un update addirittura una create table che difficilmente vi capiterà insomma perché vuol dire creare dinamicamente il database che insomma è già abbastanza complicato quindi se ci sono dei statement delle query SQL che non ritornano un valore run quindi non abbiamo un valore di ritorno come secondo parametro la callback solamente la possibilità di un errore ecco nello caso specifico della insert anzi scusate insert e l'update abbiamo due valori che ne sono disponibili nella funzione di callback col dis e ne parleremo poi del dis questo è proprio dalla documentazione se voi andate a vedere vi dice per esempio la std il numero di d anzi della riga che è stata inserita per esempio quando avete le chiavi primarie si incrementano automaticamente dovete sapere qual è l'id della chiave primarie che è stata messa quando avete fatto la insert bene così potete accederci ma questo diciamo è quasi più un dettaglio l'ultima sì e poi e poi facciamo la pausa e poi torniamo sulla sigla l'ultima è occhio come si fa a scrivere le query si scrivono in questa maniera ok una stringa abbiamo detto che è il primo parametro di get o la seconda del tipo di risposta che mi aspetto se devo prendere qualcosa da inserire nella query mi raccomando usate sempre e solo questa sintassi ogni parametro punto interrogativo i parametri sono un array di valori passati qui come secondo parametro queste quadre non sono più quelle che dicono opzionale queste quadre sono quelle che definiscono un array mi raccomando definiscono un array e quindi qui c'è un array fatto di un unico valore quindi un array lungo 1 perché perché ho solo un punto interrogativo se ne avessi avuto 2 3 perché non so facevo una insta facevo del resto avrei avuto 2 3 4 primo sul primo secondo sul secondo e così via sempre usare queste query che si chiamano query di tipo parametrico col punto interrogativo mai stringa più con cantenazione e neanche template string col dollar eccetera perché proprio per quello che dice il vostro collega su slack è per evitare se quella injection non è semplicemente una buona prassi cioè chiaramente tutto ciò che evita problemi è una buona prassi però è anche e soprattutto per evitare se quella injection che è il fatto che di solito questi parametri quindi quello che scrivo qui nelle query mi arrivano da fuori dall'utente ma anche dagli utenti maliziosi da tutti quelli che vogliono crearmi problemi e quindi se lì ci scrivono che so where code e il valore che metto è code uguale non so 0 3 e poi qualcuno inziché 0 3 mi ha scritto 0 3 punto e virgola drop table x e la query mi diventa doppia viene eseguita e mi cancella la tabella giusto per fare un esempio quindi se invece lo faccio col punto interrogativo qual è la differenza la differenza che viene interpretata dalla libreria come un valore quindi non viene eseguita come codice come se io invece l'avessi scritta come stringa e non c'è possibilità di capire la differenza se io lo faccio come stringa javascript invece il punto interrogativo e lo passo a parte la libreria fa attenzione a non eseguire mai ciò che è a parte come codice quindi è corretto quello che c'è scritto il vostro collega per evitare il cosiddetto SQL injection di cui non vogliamo tanto parlare perché è una questione dell'atto serve quindi esula un po' dallo scopo del corso perché è orientato sul client però appunto diamo almeno delle buone pratiche di programmazione farei 5 minuti di pausa e quindi io come sempre stoppo la registrazione stoppo tutto quanto e poi riapro poco dopo il meeting perché così intanto processa la registrazione verifico che sia tutto a posto eccetera e poi riprendiamo da qui andiamo avanti con qualche esempio più pratico grazie quindi e poi Grazie.